Al quarto minuto da Gagliardo, Argentina in attacco, la testa di Paz, stavolta nulla di fatto ancora. Il gol arriva però al 35esimo da assist di Ortega, delizioso il tocco di Hector Pineda per il vantaggio argentino. La gioia anche di Capitani Battistuta, oggi a secco di Reti. Nella ripresa al 18esimo ci prova con questo magnifico esterno destro Vlaovic, l'incrocio dei pali, nega il pareggio.